Ritorno a teatro per le famiglie di Biandronno, protagonista una nuovissima generazione di talenti. Ci troviamo all'interno del teatro Gualberto Nieme, come potete vedere il teatro è pronto per ripartire, insomma, riaprire i propri battenti. Ripartiamo domenica con un'opera teatrale indirizzata ai bambini delle scuole di Biandronno. Sarà un'opera teatrale che è poi il seguito della storia che abbiamo fatto lo scorso anno. Abbiamo cercato di creare qualcosa che potesse intrattenere sia i ragazzi sul palco, quindi cominciare ad avvicinarli al mondo teatrale. Perché il mondo teatrale? Perché il mondo teatrale ha quella capacità, naturalmente, di abbattere quelle che sono le insicurezze, la timidezza e quant'altro. I genitori assisteranno sia allo spettacolo dei loro figli, ma avranno la possibilità, loro insaputa, di ritornare indietro nel tempo. Perché? Perché la storia è centrata su tematiche di cartoni animati anni Ottanta. Quindi loro avranno la possibilità di rivedere i cartoni che guardavano quando erano bambini. Questa sarà la peculiarità di questo spettacolo. I bambini faranno a loro volta una sorpresa ai propri genitori.